Ciao a tutti, in questo video voglio parlarti dell'ipnosi, dell'origine dell'ipnosi, diciamo la lezione zero, perché poi parleremo in questi corsi, in questo seminario, dell'ipnosi come metodo per sedurre, come metodo per conquistare. Ma voglio iniziare a parlare un attimino della storia dell'ipnosi. Innanzitutto l'ipnosi viene considerata da molti un fatto magico, invece in realtà non è così, ma è antica, affonda nella notte dei tempi. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonarti e abbonandoti potrai, diciamo, scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo all'ipnosi. L'ipnosi, diciamo che questo stato di coscienza un po' magico, è nato e antico quanto l'uomo. veniva utilizzato, diciamo, veniva descritto come sonno magico già dagli antichi egizi, dai greci, dai romani. Ma già nella Bibbia c'è una traccia dell'ipnosi quando Dio induce un sonno profondissimo ad Adamo per togliere la costa da cui crea Eva. Quindi, vogliamo dire, la Bibbia poi in realtà si riferisce a tutt'altro, però un fenomeno, diciamo, similipnotico può essere già collegato alla Bibbia. In più, i fenomeni dell'ipnosi però all'epoca erano letti come potenza o della divinità appunto di Dio, in questo caso non si trattava nella Bibbia di Yahweh, che induce Adamo in un sonno profondissimo per togliergli la costola con cui poi crea, tra virgolette, plasma Eva. Ma di solito veniva attribuito al sacerdote, allo sciamano, al mago, alla divinità, la capacità di indurre in questo stato profondissimo. La moderna ipnosi, se vogliamo così chiamarla, nasce intorno al fine 1700, precisamente a partire dal 1775 con Anton Mesmer, che utilizza, diciamo, il mesmerismo, cioè il magnetismo. Mesmer pensava del... parlava di mesmerismo, di magnetismo animale, di una sorta di fluido, diciamo, in grado di far andare le persone in uno stato di trance. E Mesmer utilizzava questo per diverse guarigioni. Poi non ebbe molta fortuna, però in realtà, al di là di Mesmer, per, diciamo, tutte le culture, in tutte le culture ci sono riti, diciamo, che possono essere, come dire, collegati all'ipnosi. Beh, diciamo, tutti gli incantesimi magici, ma in ogni cultura, nella cultura cinese, il Vecchio Testamento, la Bibbia, ma anche nel Nuovo Testamento, se pensiamo a tutte le varie guarigioni che fa Gesù, ad esempio, possono in qualche modo far pensare all'ipnosi. E l'ipnosi del passato era basata su concezioni mistiche ed erano interventi di fatto che trasformavano le persone ed erano interventi basati sul carisma. Era un'ipnosi, diciamo, che apparentemente sembrava soprannaturale, però in realtà non vi è niente di soprannaturale, perché andremo a vedere che poi in particolari condizioni, una di queste condizioni è l'innamoramento, l'innamoramento è uno stato ipnosimile, ma poi andremo a vedere nel corso di queste lezioni sull'ipnosi, dell'utilizzo dell'ipnosi nella seduzione, che l'innamoramento è sì uno stato ipnosimile, ma l'ipnosi può essere indotta, può essere utilizzata, diciamo, come è stato naturale e normalmente accade per generare innamoramento. Ecco, quindi che vi è questo passaggio, diciamo, questo collegamento molto profondo. Poi, diciamo, un altro mito da sfattare è il fatto che nell'ipnosi l'ipnotizzato non ha un ruolo passivo o un ruolo, diciamo, dove è completamente soggiogato, ma anzi è una persona attiva, una persona che interagisce. Questo avviene oramai nella seduzione. Purtroppo ci sono state diverse, come dicevo, diverse situazioni storiche che hanno fatto pensare all'ipnosi come un fatto magico. Lo stesso Mesmer enfatizzava, diciamo, questa capacità del magnetismo, che in realtà esiste il magnetismo. Il fascino magnetico, si dice ancora oggi, il fascino magnetico è una caratteristica del seduttore. Chi seduce deve avere fascino magnetico, deve avere carisma, ma non è un qualcosa di soprannaturale, è un qualcosa che anche una donna può avere fascino magnetico, che si può imparare, che si può studiare, ed è di fondamentale importanza per sedurre, ma non è un fatto magico. Quindi, purtroppo, diciamo, beh, Mesmer utilizzava poi dei magneti, pensava, lui pensava veramente, almeno, si pensa a questo, a questo fluido magnetico, e in realtà ottenne anche diversi risultati. Lui somministrava delle tensioni molto forti alle persone, perché le metteva in vasche d'acqua, le faceva spogliare, utilizzava tutta una serie di tensioni che le persone entravano, sì, in uno stato di coscienza particolare. e poi il fatto che la persona apparisse fondamentalmente addormentata, ma in realtà non era addormentata, vediamo che nella seduzione nessuno dorme, diciamo, ad esempio, ha fatto sì che molto tempo più tardi Braid coniò questo termine ipnosi, e questo termine ipnosi, diciamo, significa sonno. D'altra parte fu la batefaria a proporre per la prima volta nella seconda decada del 1800 il concetto di sonno lucido che andava, diciamo, a soppiantare il concetto di magnetismo. Quindi ci si avvicinava, si usciva sempre di più dal concetto di sonno lucido per farle entrare nel concetto di sonno magnetico. Poi vi furono anche altre persone, un anestesista, ad esempio Esdale che operava, diciamo, si dice, senza, riusciva a operare senza anestesia in India, ma erano persone che altrimenti sarebbero morte perché erano persone che erano, diciamo, poverissime, non c'era anestesia e lui riusciva a fare questi interventi, si dice in ipnosi, comunque esiste una tecnica di ipnotica, diciamo, per raggiungere questo stato chiamato Esdale State, stato di Esdale, che è uno stato molto, molto profondo. Comunque, per quello che aveva scoperto la batefaria, per quello che aveva scoperto Esdale, James Braid invece era un oftamologo scozzese, intorno a metà del 1800 iniziò a fare studi sull'ipnosi e coniò proprio questo termine che divenne collegato al sonno, no? Convenzionalmente per lo meno si attribuisce a Braid il primo che ha coniato questo nome ipnosi, anche se molti non concordano, ma questo è soltanto un diciamo è soltanto un qualcosa di poca importanza. Comunque, convenzionalmente in ogni caso si attribuisce a Braid aver coniato questo termine. perché lui notava che le persone che trattava sembravano da un certo punto di vista addormentate. Ma poi vedremo come si può utilizzare l'ipnosi nella seduzione. diciamo un'altra idea dell'ipnosi che poi per lo meno nella seduzione è completamente superata è il concetto di monoideismo cioè concentrarsi su una singola idea. È superata nel senso che alle volte come vedremo tu non devi neanche pensare a quella cosa anzi manco ti concentri su quella cosa perché il messaggio passa a livello subliminale cioè non passa attraverso la mediazione della coscienza. Ecco che vediamo che l'ipnosi può sembrare tutta e il contrario di tutta ed è questa la bellezza dell'ipnosi perché come dissero poi Bandler e Grinder di fatto l'ipnosi non esiste perché è tutta è ipnosi. Ma vedremo nelle prossime lezioni che cos'è esattamente l'ipnosi e come può essere utilizzata nella seduzione. Ciao a tutti!